Ciao a tutti ragazzi, sono il Piccolo Ruby e sono qui per farvi un book haul. Vi mostrerò i libri che ho comprato, preso in biblioteca e i libri che ho preso in ebook. Allora, io inizierei subito perché ho tantissime cose da mostrare. Allora, il primo libro che vi mostro è di Catherine Lacey, le risposte. Io sono stato all'incontro che ha fatto Ilenia, di presentare il libro l'autrice e tra l'altro il libro è anche autografato. Io ho pochi libri autografati, comunque questa è la dedica, ma lo potete trovare anche sulle mie stories di Instagram. Allora, è un contemporaneo, una sorta di libro che parla dell'amore, eccetera, eccetera. E insomma, mi incuriosiva a leggerlo. Il suo primo romanzo è stato Nessuno scompare davvero, che se non sbaglio lo dovrebbe aver letto sia Anna di Annie in the Bed che la Miss Tortellino. se non ricordo male. Comunque datemi notizia. E niente, mi incuriosiva, sono andata alla presentazione e l'ho comprata, l'altro ci hanno dato anche dei dolcetti piccolini. Comunque Ilenia è straordinaria, Ilenia è fantastica. Si è prestata, abbiamo chiacchierato tranquillamente. Poi mi ha anche riconosciuto. E niente, quindi è veramente molto carina. Lei è stata veramente molto competente. Insomma, è stata una bella giornata. Quindi, le risposte di Catherine Lacey. Poi, andiamo con i libri che ho preso in biblioteca. Allora, in biblioteca io ho recuperato. Ah, vabbè, ce n'è un altro, ma è sotto la pila, vabbè. Allora, il primo che ho recuperato è stato La Diva Giulia. Io, di questo autore, che non so pronunciare il nome, wow, ho letto Il velo dipinto. Mi aveva convinto, il finale mi aveva lasciato un po' così, però ho apprezzato molto il romanzo e quindi ho deciso di leggere altro. L'ho preso in biblioteca perché appunto voglio leggere altro e affrontare qualcos'altro di quest'autore. Questa è una versione abbastanza vecchiotta che usciva con La Repubblica, però la potete trovare nella versione Fettinelli. La versione della Delphi con un prezzo di 10-12 euro massimo. Comunque è un libro che non vedo l'ora di leggere. Questa frase la devo smettere di usarla perché... Allora, il libro per il mio GDL delle rose. Nel mese di marzo abbiamo letto La Psichiatra, orrendo, la recensione uscita ai primi di aprile e per il mese di aprile è uscito Clara Sanchez, Il profumo dei limoni, Il profumo delle foglie di limone. Allora, io ho letto la trama e sinceramente non ho capito di che cosa tratti, sinceramente. Cioè, ci sono delle cose che ti fanno pensare che sia una storia d'amore. Altre cose che ti fanno pensare che ci sia un qualcosa, un segreto, perché poi si parla di deportati, di Auschwitz. Comunque non ho capito, sinceramente. Su Gudoritz, se non sbaglio, dovrebbe avere un voto positivo. A molti mi hanno detto che è abbastanza osceno. Comunque poi vi darò notizia nel mese di maggio. Comunque se volete partecipare vi lascerò il link sotto di Telegram, che non è solamente il gruppo dedicato alla lettura, ma è un gruppo dedicato comunque a sproloquiare, dove io imperverso come regina. Andiamo avanti con la Chiappassoni di King. Eccolo qui. Questo sarà anche il suo protagonista. Ho deciso di leggere un King al mese, di riprendere in mano King, e spero di poter leggere anche un altro libro di Moravia, perché me l'avete chiesto quando ho fatto la live. Molti mi hanno detto, ah, ma dov'è la rubrica di Moravia? Quindi sono contento che vi piaccia e sono contento che ritornerà. Comunque voglio ritornare a King, perché un pochino mi manca. Non sapevo che titolo scegliere, ho preso questo qua. Comunque vedrete sicuramente un King. E se non riuscirò a leggere entro il mese, comunque lo vedrete. Molto bene, questi sono i recuperi. Più se riesco a prendervelo. Aspettate. Casca un po' tutto, che bello. Il Non ti muovere della Mazzantini. Seconda opportunità che do alla scrittrice, vediamo come... Non è che si è rotto, no? Seconda opportunità che do alla scrittrice, vediamo come... Scusate. Vediamo come è... Vediamo com'è. Il primo non mi aveva convinto più di tanto, sinceramente. Anche se avevo apprezzato comunque determinate cose, però... Ho detto, ma sì, diamo una seconda possibilità per vedere com'è. E adesso vediamo agli acquisti. Allora, primo acquisto che ho fatto, 25% di sconto della Mondadori, che non so quanto finisce. Magnus Chase, la spada del guerriero. Libro che parla dell'idea di Asgard, quindi Magnus Chase e l'idea di Asgard. Avevo preso erroneamente il secondo. Il primo non si trovava per un po' di tempo, perché non si riusciva a trovarlo. Adesso per recuperare il terzo in ebook, perché ovviamente l'ho trovato in copertina rigida, la flessibile, penso che uscirà tra qualche tempo. Quindi ho deciso di leggerlo e ho deciso di vedere, insomma, com'è. Anche se, insomma, la saga di Percy Jackson, come saprete, non è che mi avvesse convinto più di tanto. Continuiamo con un'autrice scoperta quest'anno, è diventata la mia autrice preferita. Io vi stresserò con questa autrice. Tra l'altro potete trovare nell'infobox l'intervista che lei ha fatto l'8 maggio in onore della festa della donna. È un'intervista veramente molto profonda, è un'intervista che mi farà capire determinate cose. È un'intervista che a me è piaciuta tantissimo. Il libro che vi mostro è Fanny di Erika Young. Allora, Fanny è una sorta di Elisa di Rivombrosa che incontra i pirati dei Caraibi con tinte molto porno. Ora, non è che Elisa di Rivombrosa, insomma, c'erano santi e santi e santini, perché, insomma, c'erano anche delle scene molto bollenti. Però diciamo che questo è veramente molto bollente. Io l'avevo letto tanto tempo fa, solo che non mi ricordava alcune cose, quindi l'ho preso. Ambientato nel XVIII secolo. Quindi Erika Young, che è diventata la mia guru, assolutamente. Adesso è uscita anche con un altro romanzo, che sinceramente non ricordo come si chiama. Comunque l'intervista ve la lascerò là sotto, perché è inerente a un libro, che poi ho scoperto essere una trilogia, ed è Paura di volare il primo. Quindi ci sono riferimenti anche a questo romanzo, che vi consiglio assolutamente di leggere, perché è straordinario. È un libro che apre gli occhi su tante cose, soprattutto sulle puttanate che ci rifilano, ed è un libro che merita assolutamente. Non prendetelo solamente con un libro erotico, dove ogni tre pagine c'è lei che ansima, ma è un libro che ha un background veramente ampio e che va a trattare tantissime tematiche. Comunque nella recensione io vi ho spiegato tutto. Questo è il primo. Il secondo e il terzo sono Come salvarsi la vita, il secondo e Paracadute Baci, il terzo, che formano la trilogia. Considerando che il primo è finito con un cliffhanger assurdo, e quindi io non vi do l'ora di leggere il secondo, ovviamente. Quindi di questa e di altre libri della letteratura erotica ve ne sentirete ampiamente parlare. Poi continuiamo con il libro che è caduto per terra, ecco qui, che è Nowhere Girls. Questo l'ho visto dalla Last Bumps, che io aduvo, la cara Ileana. A lei questo libro era piaciuto tantissimo. Pensavo che era in inglese, invece poi l'ho trovato in libreria e l'ho preso. Parla praticamente di uno stupro che viene imponito e queste donne decidono in qualche modo di far sentire la loro voce, in qualche modo di ribellarsi. So solamente questo, quindi mi ha incuriosito, considerando che io sono molto sensibile alla tematica e considerato che qua c'è anche una rosa, quindi come non prenderlo. Poi continuiamo con un recupero, sempre con il 15% di sconto della Mondadori, che non so sinceramente il 25% di sconto quanto duri, sinceramente. Ed è la Corona di Fuoco. Io ho il primo e il secondo, mi mancava il terzo, poi recupero anche la Lama dell'Assassina, che sinceramente non so se leggero mai. Comunque la Mondadori ha deciso di continuare la saga, non si sa quando, ma la vedete solo in questa versione. Quindi non ci sarà più la versione rigida e la versione flessibile, ma ci sarà solo la versione flessibile. Le date figurarsi se le dicono, quindi almeno abbiamo una speranza. Allora, poi la mossa del principe di C.S. Packat, il terzo deve arrivare, è uscito il 19, è in ritardo, spero che arrivi questa settimana così lo posso leggere per le vacanze di Natale e di Pasqua. Non vi ho fatto una recensione singola, perché comunque essendo il secondo volume di un romanzo vi avrei letto poco e niente. Quando avrò letto il terzo vi potrò fare poi un video dove vi parlerò a 360 gradi della saga, che secondo me merita tantissimo. Il prezzo dovrebbe essere di 12 euro e comunque non vedo assolutamente l'ora di leggerlo e di finire questa saga, che è straordinaria. E ringrazio la Triskill che finalmente non ci ha messo secoli e secoli, ma ha pubblicato tutto in tempi molto brevi. Quindi, ultimo romanzo che vi mostro e che ho in lettura di questo romanzo, ho tantissime cose da dire ma non ve li dirò adesso, ed è One Hundred, eccolo qui. Il libro che ha aspirato la serie televisiva, ma boh, non so se continuerò sinceramente perché, ma di questo poi vi parlerò successivamente. Adesso veniamo ai libri che ho recuperato in ebook. Allora, il primo volume l'ho comprato dopo essere stato incuriosito dalla giuggiola, la più ammono giuggiole, la giuglia. Ed è Lolito, che, la copertina qui ovviamente, sarebbe un remake della storia di Lolita. Io non ho letto il libro, sinceramente, ma conto di recuperare presto e che quindi al posto di essere una donna, una ragazzina, insomma, nelle mani o comunque è oggetto di disegno sessuale da parte di un uomo molto maturo, è il contrario. Abbiamo un ragazzino che, insomma, è ampiamente desiderato da una signora di una certa età. Insomma, adesso non mi ricordo lei quanti anni abbia, sinceramente. Comunque mi incuriosiva. Poi ho comprato Accettazione di, come si chiama, Jeff Vandermeer. Devo rileggere il primo perché non me lo ricordo più, sinceramente. Ho visto il film che ho apprezzato, anche se molti hanno detto che è totalmente diverso. Ma comunque io l'ho apprezzato, sinceramente. Mi è stato fatto bene. E vorrei finire la trilogia della Re X, quindi con annientamento, autorità e ho comprato il terzo in ebook Accettazione. Il primo e il terzo ce l'ho in ebook, il secondo ce l'ho in cartaceo. Ho trovato al di braccio, ad un prezzo esoso. Cioè, non esoso, al 50% di sconto. Poi ho preso la Valle dell'Eden di Steinberg. Ho preso Furore e ho preso anche la Valle dell'Eden. Perché, insomma, Furore adesso l'ho accantonato un attimo. Però volevo affrontare anche questo autore che, insomma, se non sbaglio ha vinto dei premi. Comunque è molto importante, contemporaneo. Poi, Vite Pericolosi di Bravi Ragazzi. Questo l'ho preso a scatola chiusa, non lo so. Involgato dalla copertina, insomma, fatto aggiornare così, ho deciso di prenderlo. E poi, Rebel, la nuova Alba in ebook. Perché il terzo adesso è in cartaceo. Ho recuperato il primo e il secondo in copertina flessibile. Quindi ho recuperato il terzo così, in modo che riesco a finire la saga. Poi quando uscirà in copertina flessibile, comprerò anche quello. E poi, ad un prezzo lampo, la Ciocciara. Ciocciara di Moravia. Famosa per il film con Sofia Loren, che ha vinto anche l'Oscar. E sono indeciso se leggere quello o un altro titolo. Comunque, vi lancerò un sondaggio che sarà su Instagram. Quindi se volete partecipare, andate su Instagram e votate in tanti. Molto bene, il video è finito. Fatemi sapere voi tante cose belle. Fatemi sapere se avete letto questi libri. Fatemi sapere se vi hanno convinto, non vi hanno convinto. Se avete letto soprattutto Decento. Perché io ho un parere un po' no. Ma, ripeto, di questo vi parlerò successivamente. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!